la 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 fai le foto così, fai il simile con la tua si bravo, faccio uguale, ci mancano questi qui bella bella Paolo ma se vedi qua lo vedi vado con la bella, con il motore di scorta per il tenderino, la morsettina, tutta la testatura ma lui si sta organizzando, in caso di bisogno, anche se sei in mezzo fate conto che questa quando siete in mezzo male, avete dei problemi ci deve essere tutto l'indispensabile ma si vede che l'ho organizzato, ci lanciamo all'albero, all'embracatura lui si sa organizzare e non so un buon metro vasto è capitato la rottura di Poglionno più forte poi quanti le porti di solito? 4 6 però di... 6 giornalieri magari giornalieri anche 8, 9 cioè in giornata tanto non vengono nemmeno dentro stanno fuori, in giornata esce alle 10, rientri alle 6, 7 il pomeriggio stanno fuori, fanno un bagno, si mangia bella 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 Mauro guarda qui la postazione radio ma scusami qua, il carteggio se te lo fai qui sopra e metti qui questo? 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 puoi è piccino per comprire il carteggio no ma vabbè le pieghi un pochino ah le pieghi? si le pieghi? eh si le pieghi bellina si corzi? 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 che corzi? oggi si dice, oggi si dice oggi si dice oggi si vede in Corsica bella Mauro, bella davvero mi piace qua dentro così dentro una parca così grossa non c'era mai stata io manco io no 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 e poi quello è l'occhio del diavolo a cosa serve? qual è l'occhio del diavolo? la fortuna lo chiamano questa è una cosa australiana c'è la mattonella romana o greca romana corallo? simbolo della sicilia? si la trinacria e quell'altro sopra cos'è? è un quadretto che è stato fatto a caraibi avanzavano un pappagallino ma questi che ce l'ho trovati c'erano perché c'è quello da cui l'ho comprata era andata a caraibi questa barca ha fatto quattro travesti atlantiche minchia quattro e non la facciamo penso nemmeno da venti giorni andiamo andiamo andate andate devo picchiare la mura